Come vedi questo Bologna? Qual è il momento più bello che ti ricordi della tua esperienza del Bologna? L'anno della UEFA e l'anno della semifinale Coppa Italia sono state parecchie partite belle e importanti quindi sicuramente quell'anno è stato molto positivo. Lo ricordo con grande affetto. Adesso faccio il commentatore tecnico a Rete7 in attesa di trovare un'assistemazione. Io sono allenatore professionista e quindi aspetto qualche chiamata e intanto mi diverto a giudicare tra virgolette gli altri. In bocca al lupo. Grazie. Grazie.